Ciao a tutti nel Coniglio per Amico, che è il libro che è uscito da poco per macroedizioni. Ho raccolto tanti aneddoti e tante curiosità sul coniglio come animale. Dal momento che è ormai un animale molto diffuso nelle nostre case e sta veramente scalando la vetta degli animali da compagnia più amati, ho raccolto tante informazioni utili per nutrirlo correttamente, per preparare una casa a prova di coniglio, priva di pericoli e priva di rischi. Ho cercato di parlare della relazione con un coniglio, che è un animale sociale e quindi in grado di comunicare spesso anche molto meglio di noi. Ho parlato anche dei principali problemi e delle principali patologie per imparare a riconoscerle rapidamente. Un Coniglio per Amico è in tutte le librerie e anche nei principali store digitali. Grazie.